Torna a sorridere il settore immobiliare. Nel primo semestre 2017, secondo i dati forniti da Tecnocasa, le vendite sono aumentate del 14%, dato in linea con quello nazionale. Le tipologie di appartamento più richieste sono i quattro vani nelle zone residenziali, possibilmente con il giardino e il garage. Quindi un appartamento nuovo medio alla Castellina costa 2.900 euro al metro quadro. Di contro a Galciana il costo scende a 1.500 euro al metro quadro. In media i prezzi sono rimasti stabili. Un appartamento scilla fra i 120.000 e i 170.000 euro. A picco invece la richiesta di casa in Valle di Bisenzio. Apprezzate anche le ristrutturazioni di vecchi capannoni, trasformati in appartamenti realizzati con bioedilizia. Trend quindi positivi dovuti anche all'abbassamento dei tassi di interessi dei mutui. Il 70% dei compratori sceglie comunque questa formula, impegnandosi in media per 26 anni con rati di circa 500 euro al mese. Stabile il tasso di insolvenza, attestato come a livello nazionale, all'1,3%. Rispetto a 5 anni fa, acquistare un bilocale in media costa 75.000 euro in meno. Aumentano le richieste di affitto, ma scarseggiano gli appartamenti. A bloccare i proprietari la paura di morosità da parte degli affittuari. In questo caso, gli appartamenti più richiesti sono i bi e i trilocali, con una spesa media di 600 euro al mese. Nella zona nord della città e alle badie si registra il ritorno di piccoli investitori, che acquistano bi locali da mettere a reddito, investendo meno di 100.000 euro per poi affittarli ai lavoratori fuori sede che stipulano contratti a canone transitorio.